E come dicevo appunto in questa seconda ora iniziamo a vedere la libreria grafica che utilizzeremo durante tutto il resto del corso, che è tutto sommato abbastanza semplice da utilizzare e ci permette in modo abbastanza rapido anche di creare delle applicazioni che siano come minimo guardabili essenzialmente, non necessariamente gradevoli, diventerà poi la nostra capacità, ma perlomeno guardabili. Qui ho aperto semplicemente prima i due programmi che useremo che sono Eclipse, quel mostro di Eclipse che è importante che sia abbastanza aggiornato alle ultime versioni e questo programma SimBuilder che vi ho chiesto di scaricare tra i vari software necessari che useremo per editare l'interfaccia grafica. Ma andiamo per gradi, quindi questi qua ci teniamo aperti qua a questi programmi quando ci serviranno, ma vediamo di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una libreria, si chiama JavaFX, con il gioco di parole FX che si legge FX come effetti speciali, che ci permette di costruire delle applicazioni grafiche, diciamo così, a varie possibilità, ma quello che impareremo a fare noi sono applicazioni di tipo business graphics, diciamo, cioè con la possibilità di avere degli elementi grafici che sono i bottoni, tendine, aree di testo e cose di questo genere, che sono le tipiche interfacce di tipo gestionale. Purtroppo in questo contesto qua, gestionale è abbastanza equivalente a triste e noioso, ecco, dal punto di vista della gradevolezza dell'interfaccia grafica, non ci posso fare nulla. Quindi impareremo a costruire, questo è una videata tratta da uno degli esercizi d'esame che era stato dato qualche anno fa. E quindi chiediamoci innanzitutto come sono fatte le interfacce grafiche di questo tipo. Poi perché JavaFX può essere usata anche per fare videogiochi, ma noi non impareremo quella parte lì, anche perché è molto più complicata, perché devi giocare in tempo reale con animazioni. La parte più semplice è tutto sommato quella di interfacce a moduli, a form, a bottoni. Allora, l'interfaccia dal punto di vista della libreria JavaFX è divisa su tre livelli. C'è un livello esterno di cui ci dobbiamo praticamente occupare, non ci dobbiamo praticamente occupare per nulla, che è la finestra. Vedete che qua l'applicazione che abbiamo visto nella videata precedente, nella videata precedente vive dentro una finestra del computer. Questa finestra, con i bottoni di ingrandisci, riduci, icona, chiudi, eccetera, eccetera, è gestita dal sistema operativo. Quindi se Windows l'ha fatta così, se Mac invece ha i puntini tondi diversi, per ingrandire e rimpicciolire la finestra. Questa parte, diciamo così, che è gestita dal sistema informativo, che è le finestre che contiene l'applicazione, nel linguaggio di JavaFX si chiama Stage. Mentre invece il contenuto della finestra, cioè che cosa viene effettivamente mostrato, che è qua rappresentato da questa linea tratteggiata verde, si chiama Scena, Scene in inglese. Qui è una nomenclatura, diciamo così, teatrale, nel senso che tu hai uno stage, un palco, su cui vanno in scena dei contenuti. Il palco è la finestra, lo stage, che è aperto, gestito dal sistema operativo. I contenuti, cioè la scena che ci metti in scena su quel palco, è gestito dal tuo programma. Qui noi, nel nostro programma JavaFX, avremo uno stage che contiene una scena, e questa scena ce l'andiamo a creare noi. Il programma che abbiamo visto prima, Scene Builder, il costruttore di scene, già ci dà un'idea che è quello che ci servirà proprio per costruire la scena. Questa scena, qui si chiamano Stage Scene, lo stiamo introducendo come terminologia, ma in realtà sono degli oggetti Java, delle classi Java che si chiamano così. Quindi stiamo già imparando i nomi delle classi della libreria. Cos'è una scena? Una scena è composta di tanti elementi. Vedete che qua c'è un titolo, qua c'è un elemento con una tendina discesa, qui c'è un bottone, qui c'è un'etichetta, qui c'è un'area di testo con un contenuto, eccetera, eccetera. Quindi all'interno di una scena ci sono elementi di tipo diverso. Tutti questi elementi prendono il nome di nodi. I nodi possono essere diversi, può essere un nodo molto semplice, tipo un'etichetta di testo come questa stagione, è un nodo, ma anche un bottone, questo bottone domino è un altro nodo, ma anche questa tendina è un altro nodo. Questi nodi hanno, cos'hanno di diverso? Hanno l'aspetto visivo, diverso, appaiono in modo diverso, ma hanno anche un comportamento diverso. Comportamento perché è un'etichetta, che comportamento ha? Nessuno. Un bottone che comportamento ha? Beh, può essere premuto. Una tendina che comportamento ha? Posso aprirla, scegliere una voce e chiuderla. Quindi ogni nodo, ogni tipo di nodo della scena, ha dei comportamenti predefiniti diversi. E ovviamente un aspetto grafico diverso. Noi dovremo comporre una scena mettendo insieme i nodi che ci servono per realizzare l'interfaccia che vogliamo. Questa stessa interfaccia viene rappresentata qui a destra attraverso una serie di nodi annidati l'uno dentro l'altro. Quindi questi nodi possono essere o nodi visibili, come questo bottone, oppure nodi intermedi, dei contenitori, che servono per, diciamo così, costruire la posizione relativa, l'organizzazione relativa dei nodi precedenti. Vediamolo qua, poi lo impareremo a fare interattivamente. Però qui ci dice che noi abbiamo l'intera applicazione che è contenuto in un nodo che si chiama BorderPane. BorderPane è un contenitore invisibile che è fatto di cinque sezioni. Questo disegno qua lo ricorda un pochino. Cioè c'è una sezione in alto, una in basso, una a sinistra, una a destra e una in centro. Il BorderPane sa che lui ha cinque figli, può contenere cinque parti. Nella parte in alto lui contiene un nodo di tipo label, etichetta, che è questo qui. Nella parte sinistra non contiene niente, nella parte destra non contiene niente, nella parte sotto non contiene niente. in questo caso. Qui noi abbiamo usato un BorderPane di cui abbiamo riempito di fatto la parte superiore con un nodo di tipo label e la parte centrale, che è il grosso del contenuto, questo centro qua, con un nodo di tipo V-Box. V-Gopus che cos'è? È un contenitore che impira gli elementi in modo verticale, vertical box. Questa V-Box a sua volta contiene due sottonodi. Vedete che questi sono rientrati, sono indentati verso destra. V-Box contiene un GridPane e una TextArea. Quindi la V-Box contiene due blocchi, poi lo vediamo interattivamente e si capisce meglio. Qui c'è una Grid e qui c'è un TextArea. Questi due messi insieme sono compresi dentro quella che qua si chiamava la V-Box. Dentro questa griglia, vado ancora avanti un passaggio e poi mi fermo. Dentro questa griglia, vedete che questa è una griglia 3x2 in cui ho nelle varie colonne 00 l'etichetta stagione, 01 l'etichetta squadra, quindi questa è la colonna, la seconda è la riga, quindi prima colonna, seconda riga, squadra, e questo squadra qui. Poi, uno, seconda colonna, prima riga, ho una tendina Choice Box, che è questa. Seconda colonna, seconda riga, ho quest'altra tendina. E poi sulla terza colonna, prima riga, seconda riga, ho un bottone che si chiama Carica Partita e un altro bottone che si chiama Dominion, che corrispondono a questi due bottoni. Qui noi abbiamo una dualità tra l'aspetto grafico di un'interfaccia e anche il suo comportamento e l'organizzazione dei nodi che compongono la scena. Questa scena qua è composta da questi nodi, alcuni di questi nodi sono nodi di controllo, bottoni interattivi, tendine, campi di testo, altri nodi sono nodi di impaginazione, di layout. ad esempio il grid pane come dice il nome permette di incolonnare a griglia gli elementi. Quindi il fatto che questi sei elementi qua, stagione, squadra, due tendini, due bottoni, siano belli incolonnati sia verticalmente che orizzontalmente è merito del fatto che sono inseriti in questo contenitore a griglia. Il fatto che il testo venga sotto la parte dei bottoni è merito di questo contenitore V-box, vertical box, perché li impila verticalmente uno sotto l'altro. Quindi noi dobbiamo, e questo è il vantaggio, la potenza di questa libreria, impostare un'interfaccia grafica senza aver bisogno di indicare se questa distanza da qui a qui è di 127 pixel o di 129 pixel. Noi diamo le regole. Diciamo a JavaFX, senti, noi abbiamo bisogno di elementi che siano incolonnati a griglia, che siano incolonnati uno sopra l'altro, uno sinistro nell'altro, voglio che il titolo sia sopra il contenuto. Quindi ho questi pannelli, pane si chiamano, contenitori, che incastrati uno dentro l'altro nel modo più opportuno mi danno l'effetto che voglio io. Poi ci sarà il programma stesso che automaticamente posiziona gli elementi e decide quanto spazio lasciare tra uno e l'altro secondo le regole che gli do. Quindi è molto flessibile questo perché io gli do delle regole di alto livello e poi ci pensa lui a impostare layout. Se avete già usato altre librerie grafiche in cui dovete posizionare ogni elemento singolo al pixel vi rendete conto di quanto tempo si perdeva in quei dettagli. Tutto avviene attraverso la sapiente combinazione di nodi. Sapiente da parte nostra, siamo noi che dobbiamo saperla. combinazione di nodi e qui è una questa slide da una piccola parte no, piccola no però una parte perché non sono tutti dei nodi che sono disponibili nella libreria JavaFX. Non li vediamo tutti adesso e non impariamo sicuramente memoria però vediamo che c'è una grossa famiglia che ho evidenziato qua che sono i control i control sono diciamo così in certo senso i nodi terminali quelli finali quegli effettivi che fanno qualcosa nella pagina tra cui abbiamo ad esempio il campo di testo o l'area di testo questi lo useremo tantissimo un text field è un campo di testo di una riga sola in cui l'utente può scrivere il text area invece è un'area rettangolare di più righe in cui l'utente può scrivere poi abbiamo una choice box o useremo invece molto più spesso una combo box che è molto simile ma un pochino più potente che è la tipica tendina discesa useremo a volte spesso la label per aggiungere delle etichette di testo useremo dei bottoni potremmo a volte usare del checkbox checkbox è la tipica quadratina di spunta fatta in questo modo e poco altro essenzialmente poi ce ne sono altri ma questi sono quelli che si usano di più che sono gli elementi di base che trovate in qualunque tipo di interfaccia grafica questi sono gli elementi i veri e propri controlli cioè i nodi operativi su cui avviene il programma lavora avviene l'effettiva interazione questi controlli sono sempre sono impaginati in un certo modo incastrandoli all'interno di pannelli pane pannelli che ci sono sono di diverso tipo noi abbiamo prima accennato rapidamente quello che era il border pane che era quello che aveva 5 elementi c'era la box verticale la box orizzontale che rispettivamente impinano gli elementi uno sotto l'altro oppure uno a destra dell'altro da sinistra verso destra c'è il grid che invece è in colonna a griglia e poi ci sono altri tipi di pannelli che hanno regole di impaginazione diverse e questi ci servono per fare l'impaginazione il layout degli elementi l'incolonamento degli elementi e così via queste due grosse famiglie i pannelli servono per impostare il layout i controlli servono per impostare i contenuti effettivi della finestra e questi si annidano uno dentro l'altro a piacere essenzialmente se volete avere una panoramica di quelli che sono i controlli e quelli che sono i nodi di JavaFX potete andare o direttamente al Javadoc che è la documentazione ufficiale quindi se io vado qua si dovrebbe aprire un browser esatto dove ci sono tolgo il cuoricino che qualcuno ha messo ringrazio ma in questo momento mi dà fastidio dove è andato a venire clear ok questi sono i package principali della libreria JavaFX vedete che c'è un package controls dove al suo interno ci sono tutti i button che avevamo visto prima checkbox combo box eccetera eccetera tutti nodi molti di più di quelli che ci stavano nella figura precedente questi sono tutti gli elementi che possiamo inserire i controlli che possiamo inserire nella pagina nelle nostre applicazioni e poi ci sono da qualche parte credo che sia qua no non è qua scusatemi non mi ricordo dove fossero perché erano un po' rivisti aspetta ah sì sono organizzati in modo per esempio grid pane che dicevamo prima c'è tutta la documentazione e fa parte appunto di vedete che è un grid pane è una classe che è figlia sottoclasse di sottoclasse di sottoclasse di sottoclasse di node cioè tutte queste cose sono figlie di una unica classe super classe che si chiama node e qui in particolare c'è una classe pannelli pane che ha tutta una serie di sottoclassi note che sono i vari tipi di pannelli c'è un signore che si è preso la briga di prendere questa cosa e metterla in una forma un pochino più navigabile che è questo sito che vi ho che vi ho citato dove appunto dove ci sono tutti i controlli sono qui la gerarchia dei controlli ecco la figura di prima con i vari tipi di controlli l'etichetta e se cliccate su ciascuno trovate la documentazione l'esempio documentazione ufficiale di come si usa ovviamente lo useremo quando poi andremo a costruire la nostra scena e i vari nodi vedete qua ci sono tutti i nodi possibili la documentazione ce n'è moltissima bisogna un attimo orientarsi quindi andremo a costruire dei programmi all'inizio semplici per riuscire a identificare quali sono le cose principali ecco questa è la descrizione della scena quando voglio fare una finestra devo immaginarmi una sottoforma di nodi e in particolare questi nodi sono controlli o pannelli contenitori diciamo così bene però questa sarebbe solo una visualizzazione poi in realtà questa scena deve essere mostrata deve funzionare come un programma vero e proprio allora c'è un programma c'è un main minimale che ci permette di caricare questa scena e mostrarla sullo schermo poi lo vedremo direttamente dal codice le operazioni da fare le operazioni che deve fare un programma per aprire l'interfaccia grafica sono innanzitutto caricare la descrizione della scena da un file che la descrive questo programma scene builder che adesso impariamo a usare ci permette di salvare la descrizione di una scena in un file in un formato particolare che si chiama fxml che è un file xml alla fine che contiene al suo interno ogni dati uno dentro l'altro in formato xml i vari nodi le descrizioni dei vari nodi che voglio usare io quindi posso editare graficamente la scena e avrò questo file salvato fxml poi da programma java posso caricare con un oggetto che si chiama fxml loader caricare questo file che mi automaticamente creerà gli oggetti java che corrispondono al contenuto del file questi oggetti java li posso c'è un metodo load li posso caricare e creare una nuova scena che contenga quegli oggetti questi oggetti sono messi ad albero vedete che qua c'è un nodo principale da cui tutto partiva che è il nodo radice root e tutta la scena deriva da quel nodo principale quindi io ho un insieme di nodi di cui uno è quello principale quel nodo lì può essere mandato in scena crea una nuova scena che parte da quel nodo radice che ho appena letto root con la fxml loader è normale che in questa fase avrei un po' di confusione perché sono molti termini nuovi non preoccupatevi questa scena la posso scusate mandare in onda su uno stage come dicevamo prima sul palco ma mando in scena qualcosa sul palco quindi la scena che ho appena creato qua la mando in onda su uno stage e poi show mostro lo stage quindi apro la finestra questo primary stage non l'ho creato io ma mi arriva come parametro alla mia applicazione al mio programma perché l'ha creata il sistema operativo prima di me è la finestra in cui giro il mio programma quindi c'è una trafila di operazioni che dobbiamo compiere ogni volta che vogliamo aprire una finestra queste istruzioni in mezzo non le ho ancora commentate ma ci arriveremo tra un attimo ci torniamo tra un attimo quindi la mia applicazione è un'applicazione Java First che deve in qualche modo estendere una classe principale che si chiama application quindi io non posso fare una classe main qualunque la mia classe main come si vede nel codice qua la mia classe main deve estendere application che è javafx.application.application eccola qua che è già fatta questa classe application sa già il 90% di ciò che deve sapere riguardo al comportamento di un'interfaccia di un'interfaccia grafica noi dobbiamo solamente più aiutarla per dire sì però io qua voglio un bottone qua voglio un'etichetta per il resto diciamo sa già fare lei questa classe per cui non devo scrivermi tutto ma devo solo personalizzare il comportamento che avrà una generica applicazione grafica il metodo main chiama infatti il mio metodo main del mio programma deve chiamare un metodo launch della classe application che quindi inizializza l'applicazione e questo metodo launch prima o poi chiamerà un metodo che si chiama start del mio programma quindi ancora un po' strano il mio programma non sta dentro main ma sta dentro start perché il vero main in realtà sarebbe la classe application che deve fare tutto il lavoro aprire la finestra negoziarla col sistema operativo eccetera eccetera poi quando il programma principale che è application ha tutto pronto passa il controllo a me chiamando un metodo che si chiama start dentro il quale quello che abbiamo visto prima abbiamo un po' sottolineato prima volutamente non avevamo fatto attenzione al nome si chiama start c'è il codice c'è il mio codice vero e proprio mentre il main se lo guardate poverino non fa niente no? il nostro main non fa niente se non passare il controllo alla super class che è la class application quindi all'inizio è un po' all'inizio è un po' complicato ma in realtà tutto questo viene creato automaticamente proviamo a vederlo in pratica materialmente come facciamo proviamo a creare magari un piccolo programma in cui magari un utente può inserire un numero e può cliccare su ok e il programma gli dice se quel numero è pari o dispari facciamo una cosa molto sofisticata un algoritmo complicatissimo un programma che mi dica se un numero è pari o dispari ok? allora prendiamoci Eclipse quindi da nessun avanti seguiamo direttamente su Eclipse se non sulle slide e vediamo come creare un nuovo progetto allora la combinazione della libreria JavaFX con la libreria con Java 11 è un po' complicata nel senso che bisogna riuscire a configurare le librerie correttamente non è facilissimo richiede una serie di passaggi da eseguire diciamo così nell'ordine giusto per semplificarci questo noi abbiamo scelto di usare un meccanismo di diciamo così di creazione automatica di progetti che si chiama Maven o Maven dipende un po' come lo pronunciate e quindi ci sarà già una procedura una sorta di procedura guidata che già ci crea lo scheletro del progetto così come serve nel nostro corso ok? e quindi ci semplifica molto la creazione di nuovi progetti senza doverci andare a impazzire a impostare le singole librerie quindi facciamo questo passaggio che faremo ogni volta che dovremo creare un nuovo progetto JavaFX quindi sempre nel nostro corso quindi in Eclipse non creo semplicemente un progetto Java ok? mandate su project dentro new project si apre un menu con i vari tipi di progetti quindi c'è di nuovo Java project che è quello semplice e in realtà noi creiamo un progetto Maven qua sotto lo dovreste trovare sotto Maven creare un progetto Maven c'erano questi passaggi già nel documento ok? vado avanti vabbè mi chiede dove salvarlo come workspace e va benissimo quello in cui ero prima e qui a questo punto il passaggio successivo mi chiede senti ma questo progetto da dove lo vuoi caricare? quale scheletro deve avere? Maven è una terminologia un po' strana questi scheletri di progetti li chiama archetipi quando a favore l'archetipo vuoi derivare del tuo progetto e c'è un catalogo di qualche centinaia di migliaia di archetipi diversi la prima volta che ero aprite ci mette un po' di tempo perché deve scaricarsi tutti questi elenchi noi scriviamo TDP per tecniche di programmazione e vedete che c'è un archetipo che ha fatto Alberto Monge che si chiama TDP JavaFX Archetype che è quello che ci serve quindi voi quando siete arrivati a questo punto scrivete TDP così filtrate quell'elenco per fortuna ci siamo solo noi che ci chiamiamo TDP clicchiamo su questo e andiamo avanti next a questo punto mi chiede il cosiddetto group ID e il cosiddetto artifact ID artifact è il nome del programma e il group sarebbe il nome del package all'interno del quale mettere il nostro programma main ok quindi io lo posso chiamare pari dispari il nome del programma vedete che verrà creato all'interno di un package che si chiama pari dispari e noi come contenitore usiamo sempre questo prefisso it.polito.ttp sapete che i prefissi delle classi Java normalmente urano il dominio dell'applicazione dell'azienda che ne so se fosse microsoft.com scrivereste com.microsoft.com e man mano che andate avanti andate sempre più nello specifico qui noi indichiamo it.polito per dire siamo al politecnico .tdp per indicare che siamo nel corso di tdp scusate mi chiudo telegram perché continuano ad arrivare le notifiche e danno fastidio su altri corsi e danno fastidio il rumore ok quindi questo lo lasciamo sempre uguale e qua invece inseriamo il nome del progetto che vogliamo sviluppare finish a questo punto Maren lavora crea un nuovo archetipo lavora un pochino e creerà questo programma pari dispari che vediamo qua dove abbiamo una cartella java che contiene dei file java qui sono stati creati in automatico e una cartella risorse che contiene tra l'altro un file fxml e poi contiene la libreria java di sistema ma qui sono le solite cose e poi una sorta di maven dependencies una cartella dove ci sono una certa serie di dipendenze che sono quelle che useremo non ci serviranno tutte all'inizio del corso ma durante il corso ci serviranno tutte tra queste e quindi abbiamo fatto in modo che l'archetipo le scaricasse comunque tutte per buona misura vedete che qui dentro ci sono tutte queste librerie java fx quindi le librerie java fx sono state scaricate attraverso l'archetipo maven dentro il vostro progetto quindi se seguite questa procedura per creare progetti siete a posto c'è un main che in realtà non fa nulla ma chiama semplicemente il metodo main di un'altra classe che si chiama entry point lasciate perdere il motivo per cui questo è necessario perché java non riesce a riconoscere le librerie subito al primo punto ma solamente la seconda classe che viene chiamata il nostro vero programma è questo entry point qua che contiene scusate un attimo magari ingrandisco ingrandisco ok così si vede un pochino meglio questo è la nostra applicazione la nostra applicazione che carica un file che si chiama scena.fxml con questo meccanismo getclass.getresource cioè carica le risorse collegate alla classe queste righe sono sempre le stesse quindi non dobbiamo preoccuparci più di tanto e mi restituisce un nodo root un nodo radice attraverso il quale io posso creare una mia nuova scena e questa scena la manderò in onda sullo stage che ho ricevuto come parametro questo è il metodo start la scena è specificata in questo file scena.fxml che se lo apro con Eclipse open with text editor vedo che è semplicemente un file di testo in formato xml quindi c'è un border pane con dentro un hbox con dentro un button eccetera eccetera e quindi in realtà quindi sono dei nomi di nodi che compongono la scena ma in realtà io posso aprirlo faccio doppio clic se avete precedentemente associato il file fxml alla al programma simbuilder vi dovrebbe aprire direttamente lo simbuilder altrimenti quindi ad esempio apri con system editor dovrebbe aprire appunto con simbuilder se è il programma che avete registrato in windows se per caso cliccandoci sopra non ve lo apre con simbuilder potete tranquillamente aprirlo qua show in system explorer system explorer è la finestra del sistema operativo aperta già su questo file e quindi vi apre una finestra in cui c'è questo file direttamente e quindi da qua sapete vedete la cartella in cui è stato salvato che dipende dal vostro workspace e ve lo potete aprire direttamente da simbuilder esternamente se avete le difficoltà di solito la prima impostazione magari quella un pochino più ruvida poi una volta che le cose sono impostate si trova facilmente quindi questo è un file normale che possiamo editare con questo simbuilder qui c'è un click me di esempio tanto per non lasciarlo vuoto ma noi vogliamo personalizzarlo personalizzare questo programma per il nostro esercizio dei pari dispari quindi cancelliamo tutto quanto ci fosse prima lasciamo il nostro border pane e quindi abbiamo un'applicazione che si chiamerà pari dispari e fa vedere una casella di testo e un bottone qualcosa di questo genere ok allora io in simbuilder scelgo come fare l'interfaccia usando questi componenti qui ci sono una libreria di componenti che possono essere contenitori o controlli lavoreremo 90% su queste due famiglie qua contenitori che sono i vari pannelli di cui abbiamo accennato prima e i controlli che sono i singoli elementi ok limitiamoci a questi non andate a prendere perché su gluon ci sono anche lì degli altri controlli ma richiede una libreria aggiuntiva che appunto è la libreria gluon e quindi non prendeteli da qua altrimenti poi il programma non funziona ok quindi per ora concentriamoci su queste due qui noi abbiamo già un border pane e vogliamo inserire all'inizio del border pane in alto il titolo allora il titolo è un controllo di tipo etichetta label label è un semplice nodo che contiene un'etichetta di testo lo posso mettere qui ho già il border pane pronto nella top quindi semplicemente prendo trascino a questo punto ho lo stesso nodo che è visto in tre modi diversi ce l'ho qua in basso a sinistra nella gerarchia dell'interfaccia ce l'ho al centro in una sorta di preview e c'è una destra che mi elenca tutte le sue proprietà di quel nodo che ho selezionato in questo momento quindi questo nodo che è un titolo si chiama label ma noi adesso c'è scritto label e voglio scrivere programma gioco del park dispari emozionantissimo questo nodo di classe label ha un attributo che si chiama text che specifica il testo mostrato da questa etichetta quindi tutto java effect funziona in questo modo ho tanti tipi di nodi ciascun nodo ha una serie di proprietà le proprietà che sono elencate qua sono proprietà specifiche proprietà legate al suo layout e proprietà legate alla sua interazione col codice che poi un po' andremo a conoscere tutto il forzamento di interfaccia dipende da quali nodi scelgo e da quali proprietà imposto su questi nodi qui ho messo il titolo questa è la finestra su cui stiamo lavorando è una finestra un po' piccola perché per ora ci ho messo solamente quel contenuto volendo io ho un menu preview da cui posso aprire un'anteprima della mia finestra facendo preview mi fa vedere la finestra che aprirebbe il mio programma se lo salvassi così che è un po' bruttino ma perché per ora c'è solo questo Federico mi chiede si invilda dove l'ho trovato l'ho trovato scaricato dal link che c'è sul documento che vi ho condiviso già nei giorni scorsi ed è da scaricare separatamente non fa parte dei clips poi ok abbiamo invece il contenuto vero e proprio cioè il gioco vero e proprio in cui dovremo creare una casella di testo in cui l'utente può inserire un numero lo metteremo nel centro nella parte centrale dell'interfaccia però io non posso prendere una casella di testo e metterla nella parte centrale dell'interfaccia perché questo contenitore contiene un elemento mentre invece nella parte centrale avrò bisogno di più elementi almeno due la casella di testo e il bottone magari tre qualcosa che mi dica se il numero era pari o rispetto in uno spazio in cui ci sia il risultato ok allora ho bisogno di un contenitore che mi potrà contenere gli elementi che mi servono io posso immaginarmi ad esempio di fare una finestra in cui ho una casa di testo un bottone e sotto una frase che mi comunica il risultato quindi ho due cose una sopra e una sotto e possono essere contenute da una vbox ad esempio vedete che qua il disegno ci ricorda come vengono incasellati gli elementi oppure da una grid però in questo caso magari è più semplice una vbox che contiene più elementi in verticale in questa vbox io inserirò due elementi uno costituito dalla casa di testo il bottone che però sono già due quindi non possono se io inserissi le tre cose che devo mettere sono una casa di testo controls la casa di testo si chiama text field e la metto dentro il vbox poi metto il bottone button lo trascino dentro il vbox e lui me lo aggiunge e poi avrò un'etichetta in cui ci metterò il messaggio quindi una label la mia risposta è pari o dispari qui vediamo il comportamento della della vbox la vbox ha tre figli che sono un text field un button una label tra l'altro cliccando sugli elementi vedete che vengono evidenziati in corrispondenza gli elementi corrispondenti nella figura quindi è tutto sincronizzato la gerarchia di sinistra e la figura di destra posso anche cliccare a destra e si seleziona a sinistra l'elemento corrispondente molto comodo e questi tre elementi vengono messi uno sotto l'altro perché uno sotto l'altro ma perché questo è il comportamento della vbox se a me non piace io volessi il bottone messo a fianco della casella di testo lo posso fare ma li dovrò incastrare in una in un box orizzontale non in un box verticale allora lo posso fare prendo un box orizzontale lo inserisco qua e poi trascino sia il campo di testo che il bottone dentro questo l'hbox adesso è un po' brutto da vedere perché è sproporzionato ma vedete che adesso ho l'ibox orizzontale che contiene due elementi due di prima il campo di testo e il bottone però questa volta sono affiancati in orizzontale anziché in verticale perché l'hbox distribuisce i suoi figli gli elementi contenuti in orizzontale l'hbox a sua volta insieme alla label sono i figli di una vbox di una scatola verticale e quindi rispettivamente uno rispetto all'altro l'hbox che contiene due cose è sopra alla alla casale di testo alla label di testo quindi giochiamo con questi incastri qua per ottenere il layout che vogliamo poi ci sono degli spazi che non ci convincono tanto ma perché in realtà queste varie box hanno una loro dimensione di default se andiamo su io scelgo ad esempio la vbox vado su layout e lui ha dentro le proprietà del layout ci sono le proprietà che sono la larghezza minima l'altezza minima la larghezza preferita l'altezza preferita l'altezza massima l'altezza massima e all'interno di questi limiti ci penserà l'applicazione java effects a dimensionarlo a me piace di solito mettere sempre come proprietà questa use computed size e che dice senti falla grossa quanto ti serve quindi adatta il contenitore alla dimensione del contenuto se ho un contenuto più grande fai un contenitore più grande se ho un contenuto più piccolo fai un contenuto più piccolo altrimenti dando una larghezza fissa come è successo prima in cui avevo dato la larghezza magari se non sbaglio era di 200 pixel 200 dove era aspetta sulla Vbox sì era troppo stretta non mi sono come era era 100 ecco vedete quando se questa fosse troppo stretta il bottone non ce la fa più a mostrare il suo testo e quindi mi mette dei puntini di sospensione cose del genere io preferisco almeno in prima battuta dire all'interfaccia adattati da sola questo l'ho fatto per la Vbox la stessa cosa per l'Hbox contenitore orizzontale che in questo caso ha un'altezza troppo alta ma se io gli dico prenditi l'altezza che ti serve esattamente quindi usa la dimensione adatta la tua dimensione all'effettiva dimensione degli oggetti che hai contenuti dentro di te poi è ancora brutto perché manca dei margini perché è tutto appiccicato adesso e va bene allora noi daremo dei margini ad esempio alla Vbox che è il contenitore principale gli darò un margine di 10 pixel in alto a destra in basso a sinistra quindi posso mettere su tutte le quattro dimensioni quindi da un pochino di margine in più così come la Vbox potrò dire di separare le varie righe di 5 pixel o 10 anche così da un pochino più di aria è così come questa Hbox che contiene due corine orizzontali per separare la casella di testo dal bottone gli dirò che dia una spaziatura di 5 cose di questo genere ma questi se vogliamo sono dettagli estetici che poi uno può sistemare sperimentando il margine è lo spazio intorno lo spacing è invece lo spazio tra gli elementi interni semplicemente da un pochino più di aria lo rende un pochino più diciamo così visibile gradevole poi il titolo magari non sembra un titolo per cui questa etiquetta qua vado a modificarla e faccio in modo che sia magari più grande non 12 pixel ma la faccio da magari in grassetto da 14 così sembra più in titolo e uno se la gioca insomma e questa etichetta vabbè per ora lasciamola così chiamiamola risultato bottone lo chiamiamo inserisci o controlla e qua c'è semplicemente la casola di testo dove posso impostare ad esempio un prompt text cioè il testo di invito che viene mostrato in grigino prima che io scrivo qualcosa inserisci un numero così quindi abbiamo giocato un attimo e abbiamo costruito una interfaccia molto semplice che possiamo andare in preview e mi fa così l'anteprima di come potrebbe essere questa finestra io inserisco 25 clicco su controlla e non fa nulla ovviamente no? perché io non gli ho detto cosa deve fare quando fa controlla io gli ho detto qui mettimi un bottone che si chiama controlla poi dopo per fargli fare qualcosa lo scopriremo dopo come no? finora abbiamo lavorato in sim builder quindi abbiamo esclusivamente modificato il file che si chiama il file fxml ok? se torniamo in eclipse questo file lo possiamo andare a vedere contiene senza andare a impazzire ma contiene inserisci un numero inserisci controlla contiene le cose che ci abbiamo messo dentro noi e quindi questa volta se facciamo partire il programma main aprirà la finestra del gioco del pari dispari del nostro programma quindi questa finestra qui l'abbiamo creata noi con il nostro programma quindi sono andato in eclipse e ho fatto run e è comparso il mio programma in cui posso inserire un numero che caso controlla e non succede nulla questa è l'altra parte che dobbiamo ancora fare far succedere qualcosa ok? ci arriviamo tra un attimo fate solo attenzione che può succedere che se voi modificate il file quindi lavoriamo su sim builder salviamo il file poi torniamo su eclipse ed eseguiamo il programma può capitare che eclipse non si accorga che il file fxml è stato modificato e quindi voi tornate su eclipse e trovate l'interfaccia ancora vecchia per evitare che lui non si accorga tenete sempre aperto dentro eclipse il file xml senza mai guardarlo però prima di compilare il programma apritelo semplicemente guardatelo così e poi tornate sul main nel momento in cui lo aprite eclipse va a controllare se la versione che ha lui è effettivamente l'ultima altrimenti l'aggiorna e così il programma funziona ok quindi se vi accorgete che state modificando in sim builder ma il programma non viene modificato è sempre lo stesso aprite l'fxml dentro eclipse lui se ne accorge e quando compie il programma prende l'ultima versione lo so che è antipatico però è necessario ok facciamo un passettino avanti io faccio run di questa mia applicazione dov'è che mi si è aperta qua e a questo mio gioco posso chiuderla eccetera eccetera faccio run e si apre scusate devo sempre fare run del main e non di entry point ecco altrimenti c'è ecco questo altro errore comune dice non c'è non ci sono i componenti java effects ma come non ci sono si ci sono se provate a lanciare l'entry point non funziona dovete lanciare main che mette a posto le librerie e poi può partire quindi se vedete quell'errore lì strano non mancano i componenti java effects perché per errore come ho fatto io adesso avete lanciato l'entry point anziché lanciare main adesso arriviamo all'on action che dicevate voi questa interfaccia fa già delle cose è già capace a fare delle cose tipo se io allargo la finestra la riduco adatta ad esempio il titolo qua era centrato e io se allargo si centra il bottone sa che è un bottone sa che se ci vado sopra col mouse deve cambiare un po' colore se lo premo deve far finta di essere premuto e così via la casella di testo sa che se ci vado dentro devo poter scrivere e cursore lampeggiare se invece non c'è scritto nulla mi deve dare il testo di suggerimento in grigino e così via questo vuol dire che la scena e i nodi della scena hanno già un comportamento predefinito che è quello che ci dà il comportamento normale di un'applicazione ma poi non basta perché io devo in qualche modo far sì che dal mio programma Java specifichi che cosa succede quando clicco su controlla perché controlla è un bottone che si comporta da bottone sempre tranne quando lo premo perché lui dice vabbè ok mi hai premuto e adesso cosa devo fare allora al di là di impostare l'interfaccia grafica dobbiamo dare un comportamento a questi elementi questo comportamento si specifica aggiungendo dei metodi dentro una classe controller avremo tempo di parlare bene del controller di come si imposta eccetera adesso stiamo facendo diciamo così una lezioncina velocissima col minimo che ci serve per partire ok riprenderemo con calma queste cose la classe controller adesso la rivedremo in questo caso si chiama fsmlcontroller contiene dei metodi e delle variabili che sono collegati alle proprietà della scena java effects se io torno sulla mia scena e vado a vedere il bottone controlla in particolare mi sposto nella proprietà code vedete in basso c'è scritto code il pannello di proprietà code sono tutte le proprietà degli elementi di nodi della scena che interagiscono col mio programma java in particolare c'è una proprietà fondamentale che si chiama on action on action è il nome del metodo che deve avere il botto che ci scusate il nome del metodo che sarà implementato nella classe controller e che verrà chiamato automaticamente ogni volta che l'utente preme il bottone l'azione legata a quel bottone per ora è vuoto e quindi quando premo il bottone non succede nulla allora io posso dire che questo metodo che non so handle mi invento un metodo mio handle controller io l'ho chiamato handle controlla perché scusate scomparso handle è il verbo di gestire gestisci l'evento controlla poi parleremo meglio di eventi quando io mi muoro in interfaccia utente sto generando tanti eventi che vanno a descrivere che cosa sto facendo che descrivono attraverso gli oggetti java che si chiamano appunto eventi le azioni che sto facendo questi eventi possono essere gestiti da opportuni metodi che sono gestori di eventi quindi per ricordarci che quello è un gestore di un evento lo chiamo handle qualche cosa e l'evento quale controlla cioè la pressione del bottone controlla allora quando io faccio così quindi però lo posso chiamare Giuseppe questo metodo se voglio non è un problema il nome non importa io ho associato al bottone controlla la proprietà onaction con il nome di un metodo e salvo a questo punto il programma si aspetta che dentro la classe controller ci sia effettivamente l'implementazione di questo metodo per farmi aiutare per aiutarmi c'è una funzionalità molto comoda dello sim builder che è sotto il menu view che si chiama show sample controller skeleton cioè fammi vedere un esempio di scheletro di come dovrebbe essere il controller se io clicco questo mi fa vedere un esempio di codice che io posso prendere fare copia e incolla pari pari dentro la mia classe controller del mio programma ed è uno scheletro in quanto come vedete c'è il mio metodo handle controller ma non ha l'implementazione si che ne sa lui cosa devo implementare io però è uno scheletro che posso usare volendo posso aggiungere questa casellina full in cui lui mi aggiunge anche un metodo initialize che volendo può essere chiamato all'inizio della classe quindi magari conviene prendersi tutto questa versione full io facilmente le faccio copia torno sulla classe fxml controller e sostituisco ciò che c'era con questo copia incolla c'è ancora un altro dettaglio che di solito va a posto da solo ma la voglio solo menzionare se poi non trovate le cose qui in basso sinistra non lo notiamo quasi mai c'è un'etichetta controller sotto la gerarchia dei nodi c'è un controller questa etichetta controller indica il nome della classe controller quindi il nome dei metodi lo mettiamo nella proprietà nelle varie proprietà dei singoli nodi ma come fa lui a sapere qual è la classe controller che deve controllare questa interfaccia qua quindi che deve eseguire i metodi corrispondenti agli eventi di questa classe c'è scritto in questa proprietà qua controller class quindi a volte se voi cambiate il nome della classe controller dovete ricordarvi di venire a cambiarlo anche qua allora vediamo se la cosa funziona salvo ho già salvato il controller ha questo metodo endocontroller per non saper far nulla scrivo semplicemente system.out printline salvo questo riapro il file fxml così sono sicuro che va a ricaricare l'ultima versione per un attimo e poi rifaccio il run del mio main allora mi riparte scusate qua ce ne sono due quindi non so qual è quello giusto allora fatemelo chiudere ok rifaccio run ok proviamo insieme se io premo controlla a questo punto nella console viene il messaggio premuto quindi ogni volta che premo il bottone controlla il bottone va a vedere qual è la sua proprietà on action e chiama il metodo della classe controller che ha il nome giusto in questo caso si chiamava handleController quindi chiama quel metodo lì in questo caso questo metodo sto facendo una cosa molto scema cioè stampare un messaggio in console per rispondere alla domanda di Giulio in realtà non so rispondere perché bisognerebbe vedere il codice o esattamente il messaggio di errore che ti dà perché se se si parte direttamente dall'archetipo facendo l'operazione che ho fatto io dovrebbe funzionare facendo copia e incolla delle allora mi dice no questo è un errore quasi di sicuro vedete che è un load exception quindi ha un errore nel caricare il file scena.fxml alla riga 10 quindi nella riga 10 nel file fxml non trova il file ma dentro c'è una sintesi sbagliata bisognerebbe vedere cosa c'è nell'fxml magari lo guardiamo a parte non so se c'entra la lettera centata nel progetto se gli dà fastidio ma non dovrebbe se te lo fa semplicemente però non c'entra con l'evento perché è un errore che avviene prima l'errore che ci hai mostrato avviene già qua quando viene chiamato il metodo load e quindi è prima ok Manuel mi chiede è normale che stiamo eseguendo tutto non con java 11 ed esca il warning no allora questo qui questo warning qua che dite qua sotto va bene non è un problema lui sta dicendo guarda che tu allora questo warning è dovuto a questo al fatto che la versione del sim builder è la versione dove è non la fa vedere dove è finita qua è finito sotto qualcosa altro da super bravo troppe finestre aperte scusate eccola qua è la versione 15.0.1 dello sim builder e lui supporterebbe fino a java 15 però il sim builder supporta da java 11 in avanti visto che java 15 non è ancora del tutto stabile abbiamo scelto di usare la versione 11 che è quella diciamo così a lunga stabilità allora il warning ci dice semplicemente guarda che tu hai usato una versione di sim builder che può arrivare fino alla versione 15 di java effects ma lo stai eseguendo con la versione 11 quindi se per caso usassi qualche feature di java effects che non è ancora nella versione 11 ma è nella 13 nella 15 allora potrebbe non funzionare ma per le cose che usiamo noi il problema non si pone ok è solamente perché la versione di java di sim builder non sa che noi useremo java 11 allora dice vabbè io supporto fino a java 15 creo un file fxml c'è scritto qua all'inizio qua creo supporto la versione di java effects fino alla versione 15 però se noi la usiamo con la 11 non ci non ci preoccupiamo il jr non dovrebbe essere 7 dovremmo usarlo con la 11 il jr di cosa in teoria dovrebbe già sia eclipse che sim build dovrebbero girare con java 11 ok facciamo ancora l'ultimo passettino ok l'ultimo passettino è quello di dove era la nostra la nostra applicazioncina io quando clicco controlla stampa premuto ma io vorrei che quando inserisco 25 mi scrivesse qua sotto dove c'è scritto risultato mi scrivesse dispari quando scrivo 12 controlla mi scrivesse pari ok e non premuto vabbè vorrà dire vorrà dire che dentro questo metodo qua dovevo andare a prendere quel valore e modificarlo e controllarlo allora ho bisogno di un'altra cosa ho bisogno dal codice java di andare a pescare il valore di una casella di testo o ho bisogno di andare a modificare il valore di un'etichetta di testo che stava sotto questo si fa sempre con le proprietà quindi questa casella di testo inserisci numero ok la text field ha delle proprietà su esempio il testo tutte queste proprietà descrivono come compare quella casella di testo se è modificabile o non è modificabile come è allineata eccetera eccetera ma nella parte code c'è una proprietà importante che si chiama id fx due punti id non è che non serve perché non è che devo non ha un'azione la casella di testo no nativamente la casella di testo ci scrivo dentro tranquillamente ma non ha non è come il bottone che genera un'azione ha un valore che può essere letto quando voglio allora io posso associare un id un id sta per identificatore a questo elemento quindi questo qua la potrò chiamare ad esempio txt numero la txt lo chiamo così numero perché a me ricorda che è la casella di testo che contiene un numero perdono la casella di testo che contiene un numero una volta che ho dato un nome un identificatore che non è obbligatorio ma lo posso dare aggiungere io un identificatore simbolico a un qualunque nodo della scena le tutte le proprietà di quello identificatore saranno disponibili al programma perché sarà possibile accedermi attraverso una variabile java una variabile java che si chiama proprio txt numero e io posso fare che cosa posso andare a leggere ad esempio la proprietà text la proprietà normale è una proprietà di un oggetto java col get il set quindi farò un get text di questo oggetto e mi dice che cosa c'è scritto è la stessa cosa sull'etichetta l'etichetta risultato la posso chiamare gli devo dare un id lo chiamo txt risultato e potrò andare a modificare il testo che visualizza quindi devo settare un action tutte le volte che voglio che capiti un evento e quindi quando premio un bottone ma poi devo dare un id a tutti gli elementi di cui voglio poter leggere o modificare le proprietà tra cui il valore contenuto cioè il text vediamo cosa succede salvo quindi ho aggiunto questi due id riapro un attimo la scena.xml per essere sicuro che lo rilegga e qui che cosa faccio vado a prendere il numero scusate no mi avevo dimenticato un passaggio ovviamente come fa il controller a sapere che esistono queste proprietà glielo devo dire allora andiamo a vedere di nuovo lo scheletro di controller se andiamo a vedere lo scheletro di controller adesso ha aggiunto due campi due righe in più scusate questo private text field numero private label txt risultato quindi nel nostro scheletro aggiungiamo queste due parti se l'avessimo fatto tutto subito avremmo sparmiato tempo quindi copiamo ciò che suggerisce lo scheletro qua e ci dice guarda che hai text field e txt numero in realtà ho aggiunto anche gli import sopra quindi andiamo a prendere anche gli import facciamo prima ricopiare tutto questa variabile txt numero è collegata in tempo reale con la casella di testo numero in cui c'è il numero e la casella txt risultato è collegata in tempo reale con la label vedete che è un nodo di tipo label e questo è un nodo di tipo text field sono collegati in tempo reale quindi io posso sapere che numero è stato scritto semplicemente prendendo txt numero che è il riferimento al nodo della scena e leggendo la sua proprietà text get text come faccio a sapere che la proprietà si chiama text e me lo dissi il simbuilder la vedo qua tutti questi nomi che vedete qua nelle proprietà corrispondono a proprietà dell'oggetto tale e quali con lo stesso nome quindi lo possiamo proprio vedere quindi in questo caso mi darà il numero e io posso dirti il numero che hai inserito è pari oppure dispari ovviamente questo è un numero devo convertirlo in intero quindi dovrò fare l'intero num uguale integer la proprietà get text ti restituisce una stringa quindi integer appunto parsint il numero e quindi potrò poi dire se questo numero è pari o dispari se num per cento due uguale zero è pari scusate c'è una parentesi in Java se se è pari allora scriverò che il numero è pari dove lo scriverò nella proprietà del txt risultato modifico l'etichetta txt risultato txt risultato set text il numero è pari altrimenti scriverò che il numero dispari quindi cosa sto facendo separo il quando dal cosa quando devo eseguire il codice quando clicco il bottone cosa devo fare leggere un dato dalla casella di testo elaborarlo in questo caso elaborazione convertire l'intero vedere se è pari e generare un output come modificando l'etichetta proviamoci allora questa finestrella che mi apre sempre sull'altro schermo quindi devo spostarlo 5 controlla il numero è dispari 16 controlla il numero è pari pippo controlla eccezione number format eccezione mi sono dimenticato di controllare se era effettivamente un valore numerico e quindi quando è una stringa il mio metodo parsint fallisce e quindi ovviamente adesso dovrò ricordarmi attenzione vai a controllare prima di convertire verifica che sia o fai un try catch e decidi che cosa fare quando il valore non è corretto questo lo possiamo sistemare guardate l'eccezione che è stata sputata è un'eccezione che è lunga due pagine perché è un'eccezione che parte dal mio metodo parsint ma poi per arrivare a me devi attraversare tutta l'interfaccia java effects quindi vedete java effects bla 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 mille cose creato da creato da quello che ci interessa quasi sempre è l'ultimo quindi non spaventatevi di questa cosa qua quello che interessa è l'ultimo blocco che dice la causa è number format exception per la stringa di input pippo alla riga fsm controller 28 e quindi esattamente il punto quindi non fate rispondere a questa roba che non c'entra niente semplicemente il percorso che ha fatto questa povera eccezione per arrivare fino da noi ok quindi l'ultima riga di solito l'ultima riga dell'ultimo dell'ultima eccezione anni data che viene riportata ed è questa quindi se la volessimo correggere noi dovremmo fare un bellissimo try e poi faccio un catch di number format exception in questo caso non farò nulla magari scrivo nel mio risultato set text devi inserire un numero errore così tu sai che ha sbagliato e poi poi non devo più eseguire questo codice quindi qua dentro posso mettere un return non devo necessariamente interrompere il programma un return mi fa uscire dal metodo controller e quindi l'interfaccia va avanti senza fare più questo adesso questo num ovviamente lo devo mettere fuori vabbè queste sono cosette di Java ok a questo punto se vogliamo possiamo anche renderlo un pochino più carino ci mettiamo qua il valore del numero ma se volete da adesso in avanti riproviamola adesso devo chiuderla e rilanciarla quindi quindi vi ho detto 5 il numero 5 è dispari abc errore deve inserire un numero 10 il numero 10 è pari quindi nella sua splendore è tutta la nostra applicazione noi abbiamo usato quindi un metodo getter per ottenere un attributo di un oggetto che è questo qua la txt numero che è un oggetto di tipo textfield che corrisponde è collegato in automatico al textfield che avevamo inserito qua ed è collegato proprio perché gli abbiamo dato un nome ricordiamoci questo id txt numero quindi per collegare le cose dobbiamo avere innanzitutto un id specificato all'elemento questo id viene usato come variabile all'interno del controller se ci ricordiamo di aggiungere questo questa specifica vedete questo chioccio l'fxml significa vai a cercare nell'fxml il valore corrispondente se non mettessi questo fxml davanti creerebbe una variabile locale con lo stesso nome ma non collegata all'altra quindi non servirebbe a nulla però tutto questo meccanismo di fxml ce lo fa automaticamente il simbuilder quando gli chiediamo lo scheletro del controller e quindi ha già tutto dentro ricordiamoci di dare l'id a tutti gli elementi di cui vogliamo conoscere le proprietà dopo di che questa proprietà che abbiamo usato è la proprietà text se voglio sapere tutto della proprietà text ci clicco sopra e mi dice che è una stringa e io su questa proprietà stringa posso fare posso fare get oppure posso fare set e quindi la posso leggere la posso scrivere in questo caso e nel caso della label invece è sempre una proprietà di tipo stringa ma sarà solo in lettura perché no sul lato del programma forse leggerla che scrive non è un problema solo che l'utente non la può modificare quindi non è molto utile leggerla in questo caso questo è il meccanismo di base ok chiudo cercando di riassumervelo con una figura con una slide che poi ovviamente non trovo la slide che volevo ma niente la riprendiamo la volta prossima non è un problema solo per ricordarci il meccanismo di funzionamento di di questo tipo di applicazioni grafiche è sempre lo stesso l'interfaccia da sola non fa nulla sta ferma l'utente può interagire con gli elementi tranquillamente a volte ci sono alcuni eventi che decido io quando imposto le proprietà qua sotto ad esempio nel caso del bottone c'era l'evento scusate c'era l'evento on action nel caso di una casa di testa ci può anche essere l'evento on action ma ci sono anche le varie azioni ci clicco col mouse sopra ci passo vicino eccetera eccetera cioè ciò che fa l'utente con l'interfaccia genera eventi questi eventi possono essere catturati da gestori di eventi il gestore di eventi è semplicemente codice java è semplicemente codice java che al suo interno può fare ciò che vuole e in particolare può andare a leggere o scrivere le proprietà degli altri elementi dell'interfaccia e queste proprietà sono aggiornate in tempo reale con ciò che vede l'utente bidirezionalmente leggo ciò che l'utente ha appena inserito o se scrive una proprietà cambia automaticamente ciò che l'utente vede io potrei cambiare una proprietà ad esempio ad esempio dove hai ad esempio c'è una proprietà che si chiama disable che permette di abilitare o disabilitare degli elementi dell'interfaccia e quindi il bottone c'è ma non è cliccabile oppure c'è ed è cliccabile c'è anche un'altra che adesso non la vedo che è sul fatto che è visibile oppure invisibile ecco qua visible la posso far comparire e scomparire queste proprietà possono essere tranquillamente modificate dal programma che quindi può far comparire o scomparire dei pezzi a seconda di ciò che deve fare su questo chiaramente lavoreremo questa era solamente la prima introduzione che ci permette di fare esercizi molto molto semplici per rispondere alle ultime due domande nell'ultimo minuto che mi rimane allora la lezione domani c'è solo la lezione in aula martedì è solo in aula per solo i prenotati in aula 12 lo stesso esercizio la stessa cosa verrà fatta mercoledì solo online ok quindi non c'è mai contemporaneità tra l'aula e l'online martedì turno solo in aula mercoledì turno in laboratorio solo su zoom le slide sono già a disposizione Marco già da venerdì scorso queste qui che vi stavo facendo vedere e poi ci sono altri due o tre che mi dicono che non proviamo con un sim builder ogni volta che cerco di aprire un file mi apre solo il programma ma non mi apre il file vero e proprio vediamo un attimo cosa succede in questo caso non salviamo se io aprissi io ho aperto il progetto perché ci cliccate sopra da qui o dai clips cioè da da esplora risorse o dai clips da entrambi se io ci clicco sopra a me apre il file quindi non saprei io l'unica cosa che ho fatto qua è quando sono andato in queste windows a dirgli apri con e ho specificato sim builder e mi è bastato fare così per il resto lo potremmo vedere ecco il laboratorio di questa settimana serve anche per questo per risolvere questi piccoli problemi perché sono molto difficili di risolvere così alla cieca quindi sia chi viene in aula domani sia mercoledì su zoom al massimo si condivide un attimo lo schermo così riusciamo a vedere le vostre impostazioni e riusciamo possibilmente in questa prima settimana a smarcare tutti i problemi di installazione ok number format exception anche se rende un numero bisogna vedere il codice perché chissà cosa è scritto magari hai letto una stringa sbagliata come dicevo è difficile se non vedo il vostro codice non vedo l'errore esatto capire di cosa si tratta sì infatti normalmente per collegarli bene conviene fare così c'è apri con da Windows fai apri con e ti fa scegliersi in Builder e dopo dovrebbe funzionare però se non funzionasse usiamo il laboratorio di questa settimana per mettere le mani sui vostri computer e mettere a posto la selezione la selezione di template avviene la prima volta che lo apri in Builder però poi non dovrebbe più però prova a riassociarlo da Windows direi che è l'unica è questa provare di nuovo a fare apri con risoluzionare il programma e poi vediamo se funziona o se no non ci disperiamo vero? perché se non ci disperiamo perché se in Builder non parte come vogliamo noi lo facciamo partire noi nel senso che scusate io qua mi si apri sull'altro schermo lo aprite e poi fai apri file e te lo vai a cercare te lo vai a cercare nel workspace di Eclipse ci sarà dentro il tuo progetto ok quindi sarà in questo caso nel mio computer ce l'ho qua di Eclipse workspace tdp pari dispari source main resources fxml è un po' lungo ma poi lo vado a prendere quindi se la montagna non va ma aumento ma aumento alle gambe e va tranquillamente alla montagna ok non facciamoci fregare dai dettagli ok non vi voglio tenere lungo troppo perché le ore l'orario è già superato quindi vi ringrazio per ora abbiamo messo insieme un po' diciamo così rapidamente alcuni concetti che poi chiaramente approfondiremo meglio con calma ma ci permettono già di cominciare a lavorare e fare qualche cosina di semplice e di provare che diciamo così la nostra impostazione sia tutta sia tutta corretta che il programma funzioni in modo che dalla settimana prossima cominciamo a lavorare su qualcosa di un pochino più di serio tra i laboratori di questa settimana e le lezioni di mercoledì continueremo a fare esercizi di familiarizzazione diciamo così col meccanismo di funzionamento di JavaFX dalla settimana prossima invece approfondiremo un po' di più sia la parte di GitHub per riuscire a collaborare meglio che poi entreremo nel vivo se avete domande ovviamente rimaniamo disponibili su Slack e per ora vi saluto vi ringrazio per la giornata arrivederci a presto